La regione toscana guarda con grande preoccupazione all'evoluzione del servizio ferroviario nella dorsale appenninica con particolare riferimento al proliferare senza soluzione di continuità di servizi ad alta velocità. Inizia in questo modo la lettera inviata dall'assessore regionale trasporti Vincenzo Ceccarelli al ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli in accordo con i comitati pendolari della Toscana per protestare contro le interferenze tra il traffico ferroviario regionale e i treni ad alta velocità. Nonostante i nostri appelli all'autorità di regolazione, ai gestori dell'infrastruttura e al ministero da lei rappresentato, spiega l'assessore, altri nove servizi a alta velocità aggiuntivi sono stati messi in programmazione lungo la direttissima, impattando pesantemente sul sistema dei trasporti regionali. Sono stati in questo modo vanificati anche i recuperi di puntualità registrati nei primi mesi del 2019 dopo due anni di arretramento delle performance dei treni regionali ma anche di quelli ad alta velocità. La situazione inaccettabile, aggiunge Ceccarelli, genera malumorie proteste del tutto legittime da parte dei comitati di pendolari della linea direttissima e non solo. Purtroppo infatti stiamo anche assistendo in questi mesi a un calo consistente dell'attività di manutenzione e di sviluppo tecnologico avviata da rete ferroviaria italiana negli anni precedenti in Toscana, anche e soprattutto in parallelo agli importanti investimenti fatti dalla regione. Per affrontare questi temi, ha concluso Ceccarelli, ed individuare insieme possibili soluzioni le chiedo un incontro a breve alla presenza dei rappresentanti dei comitati dei pendolari e dell'associazione dei consumatori per poterle rappresentare lo stato delle cose e individuare insieme risposte concrete ai problemi esistenti.